Bene, riprendiamo con il quarto concorrente della mattinata. Mendoza González Rubén, di Nazionalità e Cittadinanza Spagnola, anni 22. Eseguirà nell'ordine Bach, adagio e fuga dalla prima suonata in sol minore. Lipitzer, studio numero 18, variazioni ad agio, mosso, ritmico e marcato dalla tecnica superiore del violino. Mozart, concerto in sol maggiore, KV-216, primo movimento in cadenza di Oistrak. Sarà accompagnato dal pianoforte da Inga Zetzer. Grazie. 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 Grazie.